Io ho ribadito i tratti salienti della posizione italiana, ho ribadito cioè che l'Italia non solo sottolineando ma direi rinsaldando le proprie alleanze con gli alleati storici ha fatto un appello alla ragionevolezza e a valutare all'indomani del rapporto che verrà presentato dagli ispettori dell'ONU che cosa si debba fare. Siamo ovviamente soddisfatti delle parole estremamente importanti e riflessive avute dal Presidente degli Stati Uniti col suo voler rapportarsi al Congresso e direi una volta di più che l'utilizzo di armi chimiche rimane un fatto di assoluta gravità, assolutamente secrabile e impedire che ci sia ancora utilizzo di armi chimiche in Siria rimane un must per la comunità internazionale. Detto questo la complessità del quadro, la complessità della situazione siriana, gli interessi delle potenze regionali in quell'area, il rischio del coinvolgimento sul piano della sicurezza e del rischio sicurezza di un paese come Israele consigliano quella prudenza che è stata più volte ribadita nella posizione italiana. Credo peraltro che ci si debba attendere qualcosa anche da San Pietroburgo perché evidentemente il ritrovarsi allo stesso tavolo paesi che sono la vigilia di importanti decisioni possa e debba essere un'occasione in questo senso da non perdere. Da ultimo mi preme ricordare che nel fare questa riflessione l'Italia non sottolinea un disimpegno ma ricorda ed è credibile per quello che dice che lo fa a fronte di un impegno di 5.600 uomini distribuiti in 23 nazioni e in 33 missioni nel mondo. Quindi essendo concretamente uno degli attori più importanti per il mantenimento della stabilità della pace e del cosiddetto ordine mondiale siamo sereni nel ribadire che questi giudizi servono e sono dati nell'ambito delle nostre alleanze più tradizionali e credendo fortemente nelle alleanze politiche che sosteniamo.